Easy go Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi la domanda che ci stiamo ponendo Anzi che mi state ponendo tutti in questi giorni è Xyuder, bello Rush Wars, fighissimo, fantastico Ci giochi tu, ci gioca mezzo mondo e io sono stronzo, non ci gioco Come si fa a scaricare Rush Wars per noi che siamo in Italia E per tutti quelli che non sono in Canada, in Australia o in Nova Zelanda Non è assolutamente difficile Allora ragazzi, questo è il vostro home page del vostro cellulare Il desktop del cellulare La prima cosa da fare è andare su Google Play Store Ok? Dal Google Play Store dovete cercare un'applicazione che si chiama Tantunnelbier Una volta che premete Tunnelbier vi farà vedere l'applicazione Che è quella con l'orso che esce Io l'ho già installata, voi invece la installate Che cos'è Tunnelbier? Lo apriamo Tunnelbier è un programma che ci permette di far Sospett... far immaginare al nostro cellulare Di essere o in Canada o in Australia o in Nova Zelanda Una volta che lo avrete aperto vi apparirà questa schermata È molto semplice perché qua in alto c'è uno switch proprio come vedete Quindi così è disconnesso, così è connesso Dovete Premere in basso Dove c'è scritto Io adesso c'è scritto Nova Zelanda Voi troverete Svizzera probabilmente Basta che cliccate e aprite Il Pop up E scegliete o Australia O Canada O appunto Nuova Zelanda Ma io ho premuto Brasile Ma fa niente Facciamo finta che premiamo Nuova Zelanda Che secondo me è la migliore Perché con il Canada Ho avuto problemi Quindi voi premete Nova Zelanda Lui fa la sua ricerca Sentite il verso dell'orso Appena si vede una riga azzurra Voi siete connessi Come se foste In Nuova Zelanda Da qua Create Un account Gmail Nuovo Cercate di crearlo Non con lo stesso dispositivo Quindi se potete Lo fate con Con un altro cellulare Lo fate con il computer Create Un nuovo Account Gmail Una volta che avrete creato L'account Gmail Andate Nelle impostazioni Del vostro telefono Ovviamente Stiamo parlando Che siete sempre Adesso Sul dispositivo Dove volete installare Rush Wars E nella sezione Account Una volta che ci premete Sopra Voi fate Aggiungi Account Inserite il nome E la password E ovviamente Verrete Loggati Con questo nuovo Account Da adesso Chiudete Le impostazioni Android Android Anzi ho sbagliato Riaprite Le impostazioni Android Andate nella sezione Apps Ok E Google Play Service Spazio in archiviazione Cancella Cache Torniamo indietro Google Play Service For Instant Apps Spazio di archiviazione Cancella Dati E poi Per finire Google Play Store Spazio di archiviazione Cancella Dati A questo punto Una volta che avrete Cancellato i dati Del Play Store Avete chiuso La finestra Impostazioni Android Voi Riaprirete Il Play Store Sempre tenendo aperto Ovviamente Tunnel Beer E dal Play Store Selezionerete Vediamo se ce lo fa aprire A noi il Play Store Ok Selezionerete Il vostro account Il mio è questo Per adesso Vi loggerà ancora Con l'account principale Del vostro telefono Non preoccupatevi Scegliete l'account Quello che avete aggiunto E cercate Rush Wars Come vedete Il primo risultato Sarà Rush Wars Non doveste Apparire Non dovreste Apparirvi Rush Wars O Solo quello Se non vi appare Non è un problema Ripetete la procedura Di cancellare Tutto quello Che vi ho fatto vedere Prima Piuttosto Riavviate il telefono Cancellate la cache Aprite Tunnel Beer E rientrate nel Google Play Questo è il metodo Più funzionale Dovrebbe esserci Qualche problema Scrivetelo qua sotto Nei commenti Che cercheremo Di creare Un forum Una community In modo che Ci si potrà aiutare Tutti quelli che hanno Dei problemi Lo scrivano qua E chi invece ha le soluzioni Gli risponda Io vi ringrazio Per aver guardato Questo video Non ho ancora pronta L'outro Nuova E quindi vi saluto Con l'outro Di Fortnite Noi ci vediamo in live Ciao E non mi parte l'outro Neanche di Fortnite Dove cavolo è finita? Noi ci vediamo in live Ciao Grazie a tutti.